Affluenza alle urne in calo negli 11 comuni della provincia di Campobasso, chiamati ieri al voto per l'elezione delle nuove amministrazioni. Il dato definitivo parla del 54,4% contro il 59,7% della precedente tornata elettorale, un calo che rispecchia quella che è stata la tendenza nazionale. Le operazioni di spoglio sono iniziate subito dopo la chiusura dei seggi e sono andate avanti fino a notte inoltrata. Nella maggior parte dei comuni è prevalsa la riconferma dei sindaci uscenti. A Casal Ciprano, con l'80% dei consensi, è stato riconfermato Eliseo Castelli. A Cerce Piccola il nuovo sindaco è Michele Nardacchione. A Lupara ha riconfermato Pasqualino Morinelli con una percentuale del 59,4%. Luciano Pasquale è il sindaco di Pietracatella, comune che era stato commissariato, mentre Provvidente ha riconfermato con oltre il 70% dei consensi, Salvatore Fucito. Rocca Vivara, sindaco eletto è Franco Antenucci con il 52,5%. A San Giuliano del Sagno, altra riconferma, quella dell'uscente Angelo Codagnone con il 74,7% dei consensi. Riconfermato anche il primo cittadino di Pietracupa, Camillo Santilli, che è stato votato dal 62% degli elettori, mentre il sindaco di San Polo Matese con oltre l'85% dei consensi è Armandino De Gidio.